bene buongiorno ragazzi benvenuti nella lezione numero 44 oggi partiamo l'ultimo algoritmo del corso è sempre un algoritmo sui grafi ed è un algoritmo per trovare il cammino minimo tra tutte le coppie di vertici di un graf quindi quelli che abbiamo visto fino ad ora per manford ordinamento topologico e soprattutto da extra sono algoritmi a singola sorgente cioè trovano i cammini minimi da un nodo dato del problema verso tutti gli altri nodi del grafo e abbiamo detto in una lezione che non è possibile trovare in maniera ottima ed efficiente il cammino minimo tra una singola coppia di nodi ovvero nel farlo gioco forza andiamo anche trovare tutti i cammini minimi tra una sorgente e tutti gli altri nodi ora quello che vediamo qui invece è un algoritmo per trovare eh tutti i cammini proprio tutti tra tutte le possibili coppie di vertici in un grafo e dimostreremo che ha una complessità o di n cubo che è consentitemi questa anticipazione non è un risultato eh niente male perché perché eh se è vero che noi non possiamo effettivamente trovare algoritmi eh assorgente e destinazione singole ma solo assorgente singola per risolvere il problema di tutte le coppie potremmo e in effetti potremmo non è pietato ehm iterare ovvero invocare diverse chiamate eh degli algoritmi che abbiamo visto per tutti i nodi del grafo quindi se ogni chiamata ci dai cammini minimi da quel nodo a tutti gli altri per avere i cammini minimi tra tutte le coppie che è quello che vogliamo fare oggi basterebbe chiamare questi algoritmi per ogni nodo del grafo quindi la complessità sarebbe banalmente n o di n per o di quello che vediamo qui quindi nel caso di Berman Ford sarebbe o di n per m per n quindi sarebbe o di n quadro per m m nel caso peggiore è n quadro quindi sarebbe o di n alla quarta quindi già qui si capisce che in effetti Freud e Walshall eh ci dà un vantaggio da extra eh in effetti potrebbe essere conveniente perché eh moltiplicare questo per n significerebbe avere m per n m sarebbe n quadro nel caso peggiore quindi quindi n cubo più n quadro logaritmo in base di 2 di n n cubo più n quadro logaritmo in base di 2 di n è dominato da n cubo quindi questo sarebbe un od n cubo e vabbè un od n cubo eh non è migliore comunque di Freud e Walshall tra l'altro Freud e Walshall funzionerà su grafi anche con costi negativi mentre da extra necessita di costi negativi non negativi poi c'è eh quello topologico ma di di nuovo abbiamo odm più n moltiplicato per n diventa di nuovo n quadro per n e quindi di nuovo n cubo quindi vi ho dimostrato che eh comunque quello che stiamo per fare oggi è utile perché non solo funziona sempre mentre gli altri algoritmi hanno bisogno di specifiche ipotesi di lavoro ma ha una complessità di fatto non battibile eh in effetti questo si può dimostrare essere di nuovo la complessità minima cioè ottima del problema di trovare i cammini minimi tra tutte le coppie per esempio è un problema che noi affronteremo già da oggi probabilmente in pacman perché vogliamo abbiamo un grafo piccolo questo succede soprattutto quando il grafo è piccolo non sappiamo a priori dove sta il pacman dove sta il il fantasmino quindi eh queste due entità si muovono pertanto è possibile che chissà quanti cammini minimi vi dovrò calcolare a runtime durante il gioco tanto vale eh calcolare questi cammini in anticipo eh prima ancora che il gioco parta visto che il grafo ce l'ho a disposizione invocando quindi un flow to workshop che è vero ha una complessità odm cubo però odm cubo se i nodi sono cento eh all'inizio del gioco che ne so ci metterà un secondo eh un secondo si può sprecare all'inizio del gioco durante il gioco eh certamente bisogna stare più attenti ed è il motivo per cui appunto lo facciamo all'inizio bene quindi iniziamo eh flow to workshop e devo dirvi che flow to workshop è un algoritmo un po' un po' particolare lo noteremo subito c'è un algoritmo che un po' le cose sembrano non funzionare poi ad un certo punto avviene una una specie di magia eh non si capisce bene dove come fa questo algoritmo a funzionare poi però daremo una una spiegazione ehm quindi è un elegante ma elegante significa anche non intuitiva immediatamente applicazione della tecnica di programmazione dinamica quindi usa la programmazione dinamica come vi dicevo in questo corso abbiamo visto eh ormai algoritmi che sfruttano tutti e tre i paradigmi eh divide timpera ne abbiamo visti un putiferio gridi l'ultimo praticamente da extra era un algoritmo gridi e di programmazione dinamica non abbiamo visto tantissimi algoritmi eh però eh questo è sicuramente un algoritmo di programmazione dinamica lo era anche la distanza tra le stringhe lo era anche il calcolo del fattoriale eh no del fattoriale scusate del eh del numero di fibonacci e ci sono comunque ovviamente è una tecnica usata eh nel campo degli algoritmi. Allora quello che vi propongo di seguito è un diverso modo di eh è un altro con un altro eh contesto dei cammini minimi quindi è questo che rende un po' difficile ricordarsi studiare questo algoritmo perché non parte come gli altri algoritmi su ragionamenti sul grafo ma definisce un nuovo tipo di grafo quindi eh io inizialmente noi definiremo dei grafi particolari con cammini che diremo k vincolati per arrivare ad una soluzione poi questa particolarità la praticamente eh molleremo via quindi cadrà questa particolarità questi cammini k vincolati non li useremo più e rimarrà poi la soluzione sul grafo eh quello originale quindi praticamente ci spostiamo adesso in un grafo più particolare ora vediamo perché supponiamo infatti vedete supponiamo di numerare i vertici eh come v1 v2 vn dove non è un ordine specifico però l'importante che sono numerati un cammino minimo k vincolato si definisce come un cammino da x a y dati con apice k perché indica cammino k vincolato come il cammino di costo minimo tra quelli che tranne sorgente e arrivo non usano nessun vertice numerato tra k più 1 ed n cioè praticamente il fatto di essere k vincolato è come se non vedesse tutti i vertici che stanno oltre k quindi è un cammino minimo su un grafo a cui sono stati tolti i vertici da k più 1 fino ad n tranne ovviamente x e y se x e y stanno tra i vertici k più 1 e n non vengono tolti loro costituiscono una eccezione ehm vabbè una definizione alternativa ma più o meno quello che ho detto eh un cammino minimo k vincolato è il cammino di costo minimo tra quelli che a parte x e y usano come vertici intermedi un sotto insieme eh di quelli che rimangono quindi o immagino di togliere k più 1 n dal grafo o dico semplicemente in maniera duale dovete usare dobbiamo usare solamente quelli che stanno tra 1 e k sono solo questi i vertici consentiti per attraversare il nostro grafo con il cammino k vincolato il cammino k vincolato induce tutta una serie di definizioni e proprietà che sono le stesse per i cammini minimi tradizionali ovvero induce la definizione di distanza k vincolata ovvero il peso la somma dei pesi lungo il cammino k vincolato se esiste questo cammino se non esiste è più infinito ma è lo stesso concetto della distanza per i cammini tradizionali la distanza eh zero vincolata tra x e y significa che non puoi non possiamo usare vertici numerati da da 1 a n praticamente tutti non possiamo usare nessun vertice tranne x e y pertanto un corollario è che se non possiamo usare nessun eh vertice tranne x e y la distanza sarà pari all'arco x e y se esiste oppure no se non esiste quindi sarà pari oppure più infinito se non esiste quindi la distanza zero vincolata tra x e y è pari al peso dell'arco se esiste eh è pari a zero se eh la destinazione coincide con l'arrivo eh è pari a più infinito eh se non esiste l'arco e la distanza n vincolata n vincolata significa che eh appunto in maniera duale possiamo usare tutti i vertici da 1 fino a n perché n vincolata e quindi possiamo usarli tutti e allora coincide questa esattamente con la distanza del grafo tradizionale a cui siamo abituati a pensare quindi eh mi rendo conto che questo richiede uno sforzo di astrazione però stiamo praticamente ci siamo adesso abbiamo traghettato verso un grafo diverso da quello da dove siamo partiti è un grafo a cui sono stati tolti dei vertici vertici da k più 1 a n quindi è k il parametro del nostro problema cammino k vincolato distanza k vincolata eh esattamente quello che vi ho detto il cammino k vincolato può essere pensato come il cammino minimo in un grafo tradizionale che è risultato dal grafo attuale a cui abbiamo tolto eh i vertici da k più 1 a n quindi niente di eh di eh di eh di eclatante quello che abbiamo già detto e c'è un lemma che ce lo conferma e il lemma ci dice in in soldoni che eh se ehm se solo se quindi c'è un equivalenza un cammino minimo in g di k cioè nel grafo a cui sono stati tolti i vertici da k più 1 a k ehm è un cammino minimo k vincolato in g cioè le due cose corrispondono a esattamente quello che vi ho detto prima cioè se noi stiamo cercando un cammino minimo k vincolato nel grafo è equivalente a togliere i vertici k più 1 n ragionare sul grafo risultante come ragionavamo prima fino a ieri quindi con i cammini minimi tradizionali le due cose sono del tutto equivalenti questo è quello che ci dice il lemma che è un po' quello che vi ho detto eh poc'anzi questo induce dei corollari ma corollari che sono eh ovviamente gli stessi dei grafi tradizionali perché induce gli stessi corollari appunto perché il cammino minimo k vincolato nel grafo è equivalente al cammino minimo tradizionale nel grafo a cui sono stati tolti i vertici numerati da k più 1 a n pertanto valgono tutte le proprietà dei cammini minimi tradizionali quindi esistono se non ci sono cicli negativi e fra ogni coppia se non ci sono cicli negativi allora fra ogni coppia di vertici connessi quindi esiste un cammino eh esiste sempre un cammino semplice k vincolato semplice significa che ci sono vertici distinti perché è necessario che non ci siano cicli negativi stesso discorso perché se ci sono cicli negativi allora uno sarebbe tentato di passare dallo stesso vertice più di una volta quindi eh i cammini minimi non sarebbero semplici di conseguenza se non ci sono cicli di costo negativo eh e se due vertici sono connessi allora esiste un cammino k vincolato semplice cioè che non passa due volte dallo stesso vertice poi c'è la proprietà di sottostruttura ottima è la stessa di cammini minimi tradizionali cioè che ogni sotto cammino cammino di un cammino minimo k vincolato è anch'esso un cammino minimo k vincolato quindi preso un cammino minimo k vincolato presa una porzione qualsiasi quella porzione qualsiasi è un cammino minimo a sua volta k vincolato facciamo degli esempi perché ne abbiamo bisogno visto che è una cosa un po' astratta supponiamo di avere il grafo in figura e supponiamo di avere una numerazione eh come riportata in figura ripeto la numerazione non è un una cosa che decidiamo eh in maniera particolare è una numerazione si può anche fare una numerazione random l'importante è che però venga decisa e fissata quindi questa è la numerazione x è il nodo di partenza y è il nodo di arrivo nell'esempio a fianco il cammino minimo zero vincolato zero vincolato significa che non può passare eh dai da altri vertici tranne x e y quindi se c'è un arco quello è il cammino l'arco c'è il cammino appunto questo quindi quattordici il cammino minimo uno vincolato non può passare dai vertici due tre quattro quindi eh possiamo andare in in tre no possiamo andare in due no e uno vincolato beh allora dobbiamo per forza andare di nuovo tramite l'arco x y quindi di nuovo è lungo quattordici il cammino minimo due vincolato è lungo tredici perché perché posso usare vertici eh da uno a due e non da tre a quattro quindi tre non ci posso andare due ci posso andare quattro ci posso andare perché è la destinazione quindi tre più dieci fa qua fa tredici tre più dieci fa tredici quest'altro cammino che pure è un cammino è quattordici ma il cammino minimo è quello più breve quindi è tredici la distanza la lunghezza del cammino minimo cammino minimo tre vincolato tre vincolato praticamente posso usare tutti perché posso usare tutti tranne quattro ma quattro la destinazione quindi la posso usare e allora il cammino minimo sarà sette più un otto perché è minore di quattordici perché è minore di tredici quindi otto è ovviamente uguale a quattro vincolato perché quattro vincolato eh in questo caso y è proprio il vertice ehm di arrivo quindi è lo stesso del tre vincolato ok ehm vogliamo magari facciamo un esempio eh un esempio facile ehm weighted directed graph un esempio a voi no non troppo difficile non è facile trovare i cammini minimi a occhio perché stiamo praticamente cercando cammini minimi a occhio vabbè ci proviamo tanto un grafo un grafo così semplice non è necessario non è necessario che invochiamo da extra cioè facciamo l'occhio il cammino minimo come se fossimo appunto degli esecutori umani allora chiedo a voi eh eh i vertici però non sono numerati mi servirebbe un grafo con i vertici numerati perfetto perfetto ok questo va benissimo i vertici devono essere numerati con numeri non con lettere allora vi chiedo il cammino minimo ehm cammino minimo due vincolato da zero a tre chi mi sa rispondere dai ne parlo in attesa fino a che qualcuno non non ci prova eh il cammino il cammino minimo vale due cioè quello diretto tra zero e tre perché due vincolato potremmo passare ehm per ehm diciamo per uno e per due sì eh però comunque hanno una distanza maggiore della distanza tra diretta tra ehm zero e tre che sono ehm considerando tre come vertice diciamo vertice finale ok quindi la sua risposta è due sì però cammino minimo k vincolato allora il cammino minimo è effettivamente questo zero tre però k vincolato significa che non può usare vertici eh da ehm non può usare vertici da eh vincolato da tre eh in poi tranne la destinazione quindi si ha ragione mi ha fregato è vero è la destinazione quindi è un'eccezione quindi è giusto questo è il cammino minimo k vincolato ehm come faccio adesso a vediamo un po' vediamo un po' che possa fare ehm sì mi ha fregato perché fa l'eccezione capito ehm serviva una numerazione di vertici differente eh vediamo un po' cammino minimo eh ma sono tutti questo è un pozzo vanno tutti verso il tre quindi alla fine alla fine ci frega questa cosa vanno tutti verso il tre gli archi alla fine tutti i cammini vanno verso il tre tra l'altro questo non è un grafo connesso non esiste un cammino per ogni copia di vertici eh vabbè comunque ha risposto bene eh tanto di cappello quindi niente c'era dire va bene eh quindi vabbè il concetto non è difficile eh il cammino minimo k vincolato non può usare i vertici eh da k più in poi tranne eh se eh quel vertice è la destinazione e quindi lo può usare è un'eccezione e anche l'arrivo ovviamente ok quindi eh un po' come eh l'algoritmo di Dijkstra eh l'algoritmo di Freud Warshall eh poggia le basi su un lemma che è poi quello che serve proprio per ehm per mettere in piedi l'algoritmo quindi eh se riusciamo a dimostrare questo lemma riusciamo poi a mettere in piedi l'algoritmo facilmente allora il lemma ci dice che per ogni k quindi k ovviamente può andare da uno n perché è altrimenti eh quello è la numerazione di vertici e per ogni coppia di vertici nel grafo x y si ha che la distanza distanza di minuscolo quindi proprio distanza non è una stima la distanza k vincolata tra x e y è il minimo tra la distanza tra x e y k meno uno vincolata e la distanza k meno uno vincolata tra x e vk più vk y ora cerchiamo di capire anche la dimostrazione ci aiuta un po' a capire questa questo questo lemma allora eh consideriamo eh il percorso il cammino k vincolato tra x e y semplice semplice perché è sappiamo che esiste per le proprietà precedentemente elencate sappiamo che è semplice altrimenti eh ci sono i cicli di costo negativo ma non ci non ci devono essere cicli di costo negativo quindi comunque questo lemma vale in un grafo che non ha cicli di costo negativo eh e si suppone che x e y non siano connessi quindi come corollare di tutte le cose che abbiamo detto esiste un cammino k vincolato semplice allora possiamo avere due casi questo cammino eh minimo si intende cammino minimo passa da vk oppure non passa da vk ovviamente è una proprietà booleana o ci passa o non ci passa allora se questo cammino minimo passa da vk significa che eh io posso sfruttando la proprietà che ha sfruttato il vostro collega posso dire che il cammino minimo k vincolato tra x e y è uguale al cammino minimo k meno uno vincolato tra x e y perché perché passa passa da vk quindi eh non passa da vk quindi non me ne frega che io lo escludo dalla lista di vertici da cui non posso passare non passa da vk quindi il cammino minimo k vincolato è uguale al cammino minimo k meno uno vincolato di conseguenza la distanza k vincolata tra x e y è uguale alla distanza k meno uno vincolata tra x e y ed è esattamente primo termine quindi questo minimo tra due significa esattamente che o è uno o è l'altro è il più piccolo tra due ovviamente perché la distanza ecco perché il minimo e abbiamo fatto la prima parte della dimostrazione quindi se tra x e y il cammino minimo passa da k va bene ma se passa da k allora la distanza k vincolata è uguale alla distanza k meno uno vincolata perché non scusate perché non passa da k quindi non è necessario il vertice k quindi possiamo dire distanza k meno uno vincolata oppure passa da vk e beh se passa da vk allora il cammino però è semplice quindi ci passa una volta ma se ci passa una volta allora io posso spezzarlo nel percorso da x a vk e poi da vk e y ci passa una sola volta e allora perché abbiamo k meno uno vincolata e perché siccome eh siamo eh questa è la distanza tra x e vk questo è il trucco causato il vostro collega siccome siamo in vk vk fa un'accezione è la destinazione quindi la distanza k vincolata tra x e vk è uguale a distanza a k meno uno vincolata tra x e vk perché vk è il vertice finale quindi non serve che io lo considero tra quelli esclusi lo stesso vk qui è il vertice iniziale quindi di nuovo la distanza k vk vincolata tra vk e y è uguale alla distanza k meno uno vincolata tra vk e y quindi se il cammino passa da vk se il cammino non passa da vk la distanza è uguale a quella k meno uno vincolata perché non ci passa quindi non mi serve nella lista di vertici del cammino se invece ci passa però essendo semplice ci passa una sola volta e siccome ci passa significa che posso spezzare la distanza usando la proprietà di sotto cammino ottimo quindi questo è un cammino minimo questo è un cammino minimo k vincolato e questa somma è un cammino minimo k vincolato quindi sto sfruttando anche quella la proprietà dei sotto cammini che sono anch'essi cammini minimi k vincolati a questo punto avrei ancora però la k come apice ma può diventare k meno uno proprio perché abbiamo vk come vertice di destinazione perché sto spezzando in due parti da x a vk e poi come vertice di partenza perché la seconda parte del cammino da vk a y e quindi ho ottenuto questa relazione ora a che serve questa relazione guardate questo k e qua questi k meno uno ci fanno pensare a una relazione di progressione cioè una progressione che parte da zero immaginate che questo questi apici inizialmente siano zero e posso costruire uno a partire da zero poi posso costruire due a partire da uno tre a partire da due e così via così via questo dovrebbe ricordarvi la programmazione dinamica perché la programmazione dinamica parte da problemi piccoli così piccoli che li so risolvere e in effetti sì le distanze con zero di apice vedremo adesso che ne sapremo risolvere perché sono facile da trovare da definire quindi a questo punto partendo da risoluzioni dei problemi piccoli mi serve una legge di progressione nella programmazione dinamica serve una legge di progressione per costruire via via le soluzioni dei problemi più grandi e questa è la legge di progressione da k meno uno a k indovinate un po quando raggiungerò k uguale n avrò trovato la distanza n vincolata tra x e y ma la distanza n vincolata è proprio la distanza del grafo originale che poi problema che volevo risolvere quindi ricapitolando in maniera più formale utilizziamo la programmazione dinamica sfruttando il lemma delle distanze k vincolate i sottoproblemi sono le distanze k x y per k che inizialmente zero e poi mano a mano lo incremento quindi la domanda delle domande per partire al programmazione dinamica bisogno di una legge di progressione e l'abbiamo trovata che parta da problemi talmente piccoli che li so risolvere verifichiamolo so risolvere il problema di zero distanza zero vincolate per ogni coppia di vertici vediamo per ogni coppia di vertici so dire qual è la distanza zero vincolata tra quella coppia di vertici beh se esiste un arco tra x e y la distanza zero vincolata è gioco forza il peso di quell'arco l'abbiamo detto all'inizio di questa lezione posso passare solo da x ed y quindi se c'è un arco la distanza è proprio il peso di quell'arco se invece x è uguale a y la distanza zero vincolata è zero in tutti gli altri casi è più infinito ecco quindi che abbiamo trovato la soluzione per di zero x y ora ci serve però una legge di progressione la legge di progressione l'abbiamo definita prima ti serve di uno x y ma c'hai di zero x y e qual è il problema di uno x y sarà uguale a di zero x y più di zero x vk v zero vk quindi eh v uno più di uno y di zero v uno y quindi abbiamo una legge di progressione che ci consente di trovare la distanza eh uno vincolata due vincolata tre vincolata eccetera pertanto abbiamo un ciclo che è il ciclo di programmazione dinamica la programmazione dinamica eh progredisce attraverso la legge di progressione eh costruendo soluzioni di problemi più grandi combinando le soluzioni dei problemi più piccoli questi sono i problemi più piccoli questo è il problema più grande e questa è la legge di progressione quindi per k uguale 1 a n ovvero costruiamo all'inizio le distanze 1 vincolate o le distanze 2 vincolate 3 vincolate fino alla fine arriveremo alle distanze n vincolate ma la matrice delle distanze questa è una matrice tutte le coppie di vertici la matrice delle distanze n vincolate per definizione è esattamente la matrice delle distanze canoniche del grafo canonico senza k vincoli quindi questa è la progressione della programmazione dinamica poi per ciascuna coppia di vertici perché dobbiamo mettere i numeri nella matrice delle distanze quindi per ogni casella di questa matrice delle distanze abbiamo che l'elemento x y nella matrice delle distanze per k uguale a quello che vale in quell'iterazione sarà il minimo tra eh le soluzioni che c'erano nella matrice delle distanze al passo precedente quindi questo ci fa capire che la nostra tabella della programmazione dinamica non è una tabella n quadro n quadro è la tabella delle distanze ma siccome questo va in k in k da k 1 n abbiamo bisogno di una tabella di dimensione n cubo perché n quadro è per contenere le distanze tra tutti i vertici tra tutte le coppie di vertici per n perché abbiamo appunto la progressione della eh programmazione dinamica quindi a essere più precisi eh questa programmazione dinamica fa uso di un array come era per esempio eh il calcolo del fibonacci no fibonacci era prendi la somma dei due precedenti eh valori nell'array e vai avanti questo array si popolava ok quella è la programmazione dinamica che fibonacci qui si dice prendi le distanze le matrici delle distanze eh nel k meno uno eh nella k meno uno iterazione k meno unesima iterazione quindi è come se noi in fibonacci dicessimo di prendere qualcosa che stava nella precedente casella quindi è come se questo fosse un array di ehm n più uno perché si parte da zero e si arriva n soluzioni di x y k dove ciascuna soluzione però occupa n quadro quindi è un array di eh matrici eh di distanze e la soluzione quindi la matrice delle distanze al passo k si compone facendo il minimo delle matrici del passo k meno esimo in in questa maniera però bisogna considerare eh quali sono i vertici convolti quindi eh quello che vediamo qui nel codice è esattamente il lemma che abbiamo prima dimostrato perché diciamo vabbè la distanza x y k vincolata è uguale alla distanza x y k meno una vincolata ovvero questo e poi c'è il minimo se però eh se però questo è minore di questo se questo è minore di questo allora assegniamo una distanza x y k vincolata esattamente questo quindi queste tre righe sono il minimo di questi due termini allora uno dice perché le hai scritte così perché scrivendole così vedremo in seguito che questo algoritmo è praticamente Bellman Ford generalizzato ai ai vertici e non agli archi perché Bellman Ford ragionava sugli archi mentre qua ragioniamo sulle coppie di vertici ok quindi ci siamo che questo eh algoritmo ci dà la soluzione finale ce la dà perché progredendo di k 1 fino a n arriveremo alla matrice di distanze n vincolata eh n vincolate ma quelle sono appunto le distanze del grafo originario quindi ehm ehm il costo computazionale di questa procedura è n per tutte le coppie quindi n per n di vertici quindi n cubo e in effetti il costo computazionale è n cubo però in questo momento anche il costo spaziale è n cubo e allora uno dice possiamo fare di meglio eh perché perché magari se ci sono tanti nodi occupo tanta rama n cubo effettivamente tanto se ciò eh beh nel pacman 100 nodi ehm quindi 10 alla seconda per 13 alla sesta un milione e vabbè un milione di di beh un milione insomma un milione sono un megabyte non è ancora tanto però comunque sarebbe meglio se possiamo fare di meglio lo dobbiamo fare e perché eh osserviamo in realtà che le righe 10 13 praticamente le righe eh dove appare eh il k che è l'indice del ciclo non dipendono da k invece aspetta come è possibile una cosa del genere vediamo allora riga per riga la riga 11 eh non dipende da k perché per ogni k si va a copiare quello che sta in dxy quindi dxy del k meno unesimo se lo copia nel k poi il k verrà copiato nel k più eccetera e quindi eh cioè non fa niente si copia copia se stesso eh ad libitum non fa niente di che non dipende da k questa cosa vediamo adesso le righe 12 e 13 nelle righe 12 e 13 se appicchiamo il lemma delle distanze k vincolate eh otteniamo la seguente cosa otteniamo che di la distanza k vincolata tra x e vk cioè il primo termine e poi la distanza vincolata eh k vincolata tra vk e y cioè il secondo termine scopriamo che entrambi non dipendono da k vediamo perché la distanza k vincolata tra x e vk si può eh applicando il telema delle distanze vincolate calcolare come il minimo della distanza k meno vincolata tra x e vk e e la distanza k meno vincolata tra x e vk e vk vk cioè abbiamo scelto come vertice intermedio vk uno dice eh perché vabbè avevo scelto si può fare cos'è non c'è nulla che ci vieta che ci vieti di usare come vertice intermedio del nostro cammino k vincolato vk anche perché essendo il vertice finale possiamo usarlo come vertice intermedio quindi eh ma il minimo tra queste due eh la distanza tra vk e vk è zero quindi questo diventa zero questo diventa uguale a questo termine il minimo tra due termini uguali è il termine stesso quindi la distanza k vincolata tra x e vk è uguale la distanza k meno 1 vincolata tra x e vk allo stesso modo la distanza k vincolata tra vk e y applicando il lema sarà il minimo tra la distanza k meno 1 vincolata tra vk e y e poi qua applico lo stesso trucchetto in partenza stavolta quindi eh spezzo il percorso in vk vk e poi vk e y ma vk vk è zero questo è uguale a questo e quindi questo è uguale a questo ovvero questo termine non dipende da k questo termine non dipende da k questo termine che è quello che abbiamo visto prima non dipende da k ma allora non c'è niente che dipende da k qua dentro cioè questi passi di calcolo devono essere svolti per carità non sto per toglierli ma non dipendono da k semplicemente c'è un ciclo che ci dice che dobbiamo farlo per n volte ma non che dobbiamo farlo usando uno specifico valore di k non so se mi spiego quindi non sto dicendo che stiamo facendo cose inutili sto dicendo che queste cose che stiamo facendo non dipendono dal particolare valore di k cioè non c'è nessun momento in cui abbiamo detto eh però se k è così si fa così se k è colì si fa colì mai è stato successo mai successo questo perché l'abbiamo dimostrato ma allora gli apici k possono sparire e se gli apici k spariscono guardate che succede che abbiamo un ciclo esterno di n iterazioni come belmanford un ciclo interno su tutte le coppie mentre belmanford era su tutti gli archi che fa rilassamenti non degli archi ma comunque è un passo di rilassamento vi ricordate il passo di rilassamento di belmanford era se hai trovato una strada migliore se nell'andare da x e y hai trovato una strada che passa da v migliore minore allora fai rilassamento ma esattamente questo se nell'andare da x e y hai trovato un vertice migliore eh che ti consente di minimizzare questa distanza che è una stima per eccesso allora fai rilassamento quindi eh diminuisci la distanza questo che vedete è esattamente l'equivalente della tecnica del rilassamento di belmanford per archi questa è la tecnica del rilassamento per vertici perché qui non abbiamo il peso di un arco ma abbiamo la distanza tra una coppia di vertici cosa ci abbiamo guadagnato beh ci abbiamo guadagnato che questo anche a occhio è esattamente belmanford generalizzato alle coppie di vertici quindi se impariamo belmanford questo ci viene gratis e poi il costo spaziale adesso è odio n quadro perché ragazzi se k uguale k meno uno e k più uno uguale k e quindi tutto uguale a quello che c'è prima a che serve costruirsi questa tabella tridimensionale basta quindi solo la matrice di distanza e quindi l'occupazione spaziale è n quadro eh quindi il costo computazionale rimane n cubo perché eh beh n per n per n n cubo quello nessuno lo lo toglie però adesso il costo spaziale è diventato n quadro e anche in maniera piuttosto magica come vi dicevo all'inizio della lezione essendo sparito il k dalle distanze in questo algoritmo non c'è più il concetto di distanze k vincolate dove sta io non lo vedo queste sono distanze canoniche e vabbè c'è il k sì vabbè quello è un ciclo è un ciclo come c'era pure in benmanford k che va da 1 a n quindi tutto il discorso che abbiamo fatto sulle distanze i cammini minimi k vincolati magicamente scompare e lascia spazio ad un algoritmo che di fatto è benmanford generalizzato per tutte le coppie di vertici abbiamo già detto che questo è il costo minimo ed è anche un un algoritmo che funziona come benmanford per grafi con archi di qualunque costo e in maniera simile a benmanford anche questo algoritmo si può usare per trovare i cicli di costo negativo come si trovano i cicli di costo negativo praticamente si prende questa matrice delle distanze praticamente è un po come benmanford se vado avanti nel fare più iterazioni di quelle richieste mi accorgerò che lungo la diagonale di questa matrice la diagonale contiene le distanze da un nodo verso se stesso queste distanze non possono essere negative se non ci sono cicli negativi se ci sono invece cicli di costo negativo una o più di queste di queste distanze quindi di questi termini lungo la diagonale diventeranno negativi che significa che partendo da quel nodo e facendo un giro ritornando a quel nodo la distanza è negativa quindi significa che c'è un ciclo di costo negativo quindi in maniera simile a benmanford qui posso usare flood washer per facendo anche solo una interazione in più vedere nella diagonale se ci sta qualche numero negativo se c'è allora ho trovato un ciclo di costo negativo e quindi di nuovo posso usare questo algoritmo per per sbancare per fare arbitraggio sui grafici di valute anche se questo ci mette un po di più beh no non è detto ci mette allora questo algoritmo in quel caso forse perché è utile questi algoritmi sono utili quando voi non sapete da dove partire cioè non sapete qual è la sorgente se invece voi già sapete qual è la sorgente che ne so sapete che noi siamo in europa quindi volete fare arbitraggio volete fare a partire dall'euro allora dovete fare in quel caso benmanford se invece volete dire va bene non mi interessa non vado pure vado pure dall'altra parte del mondo pure di guarda pur di guadagnarci con l'arbitraggio allora uno dice trovami tutti i cicli di costo negativo tra tutte le coppie di vertici del grafo e quindi usate floyd walshaw ok ok un ulteriore un ulteriore modifica di floyd walshaw che ci viene utile adesso per il parkman e per questo ve ne parlo è quella di utilizzare la matrice dei successori calmo spieghiamo bene che significa allora è chiaro che floyd walshaw calcola la matrice delle distanze questo è chiaro abbiamo visto noi un algoritmo all'inizio di questa parte sui cammini minimi che a partire dalla matrice delle distanze dati s sorgente e di destinazione li chiamava x y di calcola il cammino minimo utilizzando la matrice delle distanze però questo significa che se noi volessimo calcolare per calcolare in in parkman per esempio tutti i cammini minimi e ci vorrebbe un po di tempo innanzitutto anche solo stoccare memorizzare i cammini minimi e beh insomma i cammini minimi tra tutte le coppie sarebbero liste di vertici un cammino minimo una lista di vertici per tutte le coppie e quindi quanti sono sono n su 2 fattoriale scusate n su 2 binomiale sono tanti ragazzi sono veramente tanti cammini minimi non è quel modo migliore per memorizzare i cammini minimi il modo migliore per memorizzare i cammini minimi tra tutte le coppie e la cosiddetta matrice di successori cioè una matrice vediamo se la riesco a trovare sul sex or matrix eh sì ok però vorrei vederla grazie questa è una cosa che ci serve per il pacman per questo non sta nelle slide però possiamo anche farne a meno e cioè nulla osto noi possiamo comunque usare le stesse cose che abbiamo visto nelle slide beh questo non funziona e fare come come abbiamo fatto prima come sta nelle slide vabbè non riesco non riesco a trovare niente che fa che fa che fa il caso comunque la matrice dei successori ragazzi è una matrice n per n in cui la riga corrisponde alla sorgente la sorgente c'è dove sei in realtà e la colonna corrisponde dove vuoi andare e next significa qual è successore cioè se io mi trovo in i e voglio andare in j quale nodo devo in quale nodo ora devo andare per muovermi lungo il cammino minimo tra i a j quindi la matrice dei successori contiene in ogni casella l'indice l'identificativo numerico del nodo che si trova nel cammino minimo tra i a j subito dopo i questo è il concetto quindi con una matrice io memorizzo tutti i cammini minimi la matrice che occupa n quadro quindi con n quadro io tutti i cammini minimi perché devo andare per esempio da 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 una sorgente ad una destinazione allora vado nella casella sorgente destinazione e mi dice qual è il prossimo nodo e vado in quel prossimo nodo vado nella casella dei successori di quel prossimo nodo e gli chiedo guarda io devo andare comunque alla destinazione mi dici dove devo andare e mi dice qual è il prossimo nodo e così via quindi facendo accessi nella matrice dei successori io riesco ad arrivare alla destinazione perché ogni accesso mi dice il prossimo nodo del cammino minimo alla fine arriverò sicuramente se c'è un cammino che connette la sorgente con la destinazione ma c'è se è connesso il grafo arriverò alla destinazione allora a che serve questa cosa oltre a risparmiare spazio serve perché ci sono algoritmi non tutti ma ci sono algoritmi come per esempio fra duor shal che si prestano molto bene a calcolare la matrice dei successori dentro l'algoritmo stesso praticamente l'algoritmo di fra duor shal con with part reconstruction non solo vi dà le matrici delle distanze ma vi dà anche la matrice dei successori ovvero la matrice che vi consente di calcolare al volo in o di k lunghezza del cammino tutti i cammini minimi semplicemente facendo accessi nella matrice perché si presta bene questa cosa perché ragioniamoci adesso qua sono cambiati gli apici sono cambiati le variabili del non sono x y ma sono i e j ma non è questo il problema il ciclo esterno è ancora k tra l'altro quindi questo ci fa capire che comunque chi ha scritto questo codice si ricorda che dietro c'è un discorso sulle distanze k vincolate però vabbè questa è la nomenclatura utilizzata allora il passo di rilassamento ci dice che abbiamo trovato una strada migliore cioè nell'andare da i a j questo è il nostro obiettivo da i a j abbiamo trovato una strada che passando per k è migliore perché la distanza tra i k più la distanza tra k j è minore della distanza tra i e j quindi abbiamo trovato una strada migliore se abbiamo trovato una strada migliore il successore nel cammino minimo da i a j cioè il prossimo nodo io che sono in i per andare in j siccome ho trovato una strada migliore che passa da k il successore sarà il prossimo nodo partendo sempre da i perché io in iso sto per andare a k perché è vero io devo andare in j ma ho trovato una strada migliore che passa per k e poi andrà a j quindi tanto vale digli guarda per andare a j ti dico qual è il prossimo nodo nel cammino minimo per andare a k perché tanto stai sicuro che questa è la strada migliore non ti stai perdendo sei sul cammino giusto quindi questo semplice aggiornamento fatto in ogni iterazione di tutto l'algoritmo fra duosial farà sì che alla fine non solo la matrice delle distanze saranno di piccole le distanze vere non stimate per eccesso ma anche i successori le matrici dei successori saranno successori che di volta in volta verranno corretti ma alla fine saranno i veri successori cioè successori nei cammini nei cammini minimi tra quel nodo e il nodo destinazione e quindi se abbiamo una matrice dei successori ricostruire il cammino minimo tra una nodo x e un nodo y diventa banale perché basta dire ok vuoi andare da x e y hai la matrice dei successori e qual è il prossimo nodo nel pacman e nel fantasmino il fantasmino sta in x il pacman sta in y in quale nodo il fantasmino deve andare nessun problema vai nella matrice dei successori accedi alla riga x cammini minimi a partire da x accedi alla colonna y cioè voglio andare in y voglio andare nel pacman mi dà il nodo prossimo nel grafo in cui devo andare e quel nodo sarà uno dei nodi in cui mi devo spostare io fantasmino per raggiungere pacman quindi con o di uno addirittura non serve manco ricostruire tutto il cammino minimo con un accesso in memoria ho fatto un fantasmino che insegue il pacman in maniera ottimale o di uno e questo è il vantaggio di tutto di tutto questo approccio e beh vediamo adesso come implementare tutto questo adesso ci sarà ovviamente ci vorrà fatica però abbiamo messo sul tavolo tutti gli ingredienti prima di questo ci sono delle domande dei chiarimenti magari immagino non è molto chiaro forse flood wash è uno degli algoritmi meno compresi meno comprensibili di tutta insomma la rassegna che vi ho fatto ci rinunciate a prescindere ma capisco benissimo che avete bisogno anche un po di rivedere con calma questo algoritmo però intanto vediamo come funziona se funziona e se finalmente riusciamo a fare un fantasmino che si comporta come si deve allora il nostro pacman non ha una classe deputata all'intelligenza artificiale ha invece una classe level che contiene contiene il grafo quindi contiene il vettore di punti questo ci serve per sapere esattamente la posizione proprio spaziale dei nodi del grafo e poi questi sono i vicini quattro vicini per ogni nodo nodi types ci dà il tipo di nodo quindi ci sono anche i nodi di teletrasporto e questo è importante perché i nodi di teletrasporto bisogna trattarli in maniera diversa perché appunto per definizione di teletrasporto la distanza che ci sarà tra un nodo di teletrasporto destro e un nodo di teletrasporto sinistro la distanza sarà 0 o 1 e dobbiamo forzarla noi con questa distanza perché se calcoliamo la distanza qui l'idea ci dà la distanza orizzontale ma non è vero perché appunto c'è un teletrasporto pertanto è importante ricordarci che ci sono dei nodi particolari che avranno una distanza particolare ok vabbè questo è il grafo possiamo decidere di mettere la nostra intelligenza artificiale qui però vi dico sempre conviene separare le responsabilità e quindi conviene fare una classe deputata ai.h ai.cpp poi non lo so come volete chiamare io l'ho chiamata ai magari si può chiamare in un altro modo però rende meglio l'idea ai a questo punto speriamo che si make si ricordi di questo progetto così devo semplicemente perfetto fare solo il configurer generate e riaprire viso studio perché ho fatto questo perché ho aggiunto un nuovo elemento quindi ho chiesto a si make di ricontrollare i sorgenti e quindi mi avrà aggiunto ovviamente anche anche la classe ai e a questo punto iniziamo a scrivere la nostra classe ai ragamama once ci dice che questo è un header che va incluso una sola volta la nostra classe ai non è ereditata niente perché è una classe che contiene metodi e strutture custom definite da noi non è una classe di qt e dobbiamo decidere se questa classe deve essere una classe che permette più di un'istanza oppure no ragioniamoci un attimo quale sarebbe il vantaggio di avere più di un'istanza io non ne vedo un gran vantaggio perché il grafo è uno se ci fossero più grafi allora sarebbe comodo avere più di una classe di questo tipo ma il grafo è unico se il grafo è unico allora anche quello che la i calcolerà cioè la matrice delle distanze la matrice dei successori anche quella è unico ok cioè una volta si calcola come se il gioco parte la classe ai calcola quello che deve calcolare una tantum magari ci mette anche un secondo però nessuno se ne accorge e basta poi rimane lì quindi converrebbe fare questa classe una classe singleton singleton significa che ha un'unica un'unica istanza significa che il costruttore è privato e significa che qualcuno quando chiede dammi l'unica istanza accede tramite un metodo instance che appunto restituisce l'unica istanza come fare se dire l'unica istanza vogliamo mettiamo più grande il testo se troppo grande va bene così incontriamo led e definiamo ai instance diciamo che creiamo un oggetto unic unic instance di tipo statico quindi si crea e si mette un programma vive per tutta la durata del programma che restituiamo l'indirizzo perché quello vuole vuole un indirizzo dell'unica istanza presente nel programma quindi la prima volta che verrà invocato il metodo instance pubblico al suo interno verrà creato un'unica istanza statica quindi statica lo dice la parola statica nessuno la tocca e viene restituito poi l'indirizzo la seconda volta che viene invocato questo metodo essendo questo statico non viene di nuovo viene eseguito solo una volta all'inizio ma poi basta quindi si ritorna praticamente di nuovo l'indirizzo dell'unica istanza del programma ora questo classe i dovrebbe avere mi piacerebbe che avere che avesse una serie di metodi per esempio un metodo che mi dice io dove devo andare se voglio andare da x a y dove devo andare quindi una cosa del tipo int next node in shortest path tra x ed y una cosa del genere io voglio andare da x a y tu un metodo mi devi dire qual è l'indice perché i nostri nodi del grafo li identifichiamo con un indice come se vi ricordate è passato un po' di tempo però appunto questo è un vettore di nodi in cui la posizione del nodo l'indice del nodo è l'indice appunto che con cui identifichiamo numeriamo se volete etichettiamo quel nodo quindi abbiamo una classe ai che ha un metodo si fatto e quindi cosa ci aspettiamo ci aspettiamo che se noi adesso siamo nel fantasmino e dobbiamo scegliere il prossimo nodo se dove siamo la scatter chase ecco questa è la modalità chase la modalità di caccia no perché è inutile scomodare l'intelligenza artificiale se dobbiamo andare a zonzo per il livello oppure se dobbiamo ritornare a casetta perché sono stati mangiati o se dobbiamo uscire dalla sarebbe uno spreco veramente enorme di di computazione quindi solamente se siamo in modalità di chase di caccia ora il nostro fantasmino utilizzava la choose next dir che sarebbe praticamente scegliere la direzione prossima in base a un discorso di minimizzazione della distanza e quell'idea vi ricordate no si sceglie tra le possibili direzioni quella che minimizza la distanza euclidea bene nel nostro caso se abbiamo un fantasmino con la i attiva non so se abbiamo pensato ad un flag di tipo strong ai attivo vabbè si può sempre fare in un secondo momento quindi per adesso io mi limiterò semplicemente a commentare la vecchia ai che diciamo era abbastanza cioè era quella del dopo originale che comunque un po di pressione la mette però giocandoci si capisce ci sono modi per ingannarla eh specialmente se si va se si usa il tunnel il teletrasporto proprio sbarella del tutto non lo capisce che conviene magari se noi siamo vicini al teletrasporto di sinistra e il fantasmino è vicino al teletrasporto di destra se fosse intelligente lui dovrebbe decidere di teletrasportarsi nella direzione in cui ne stiamo andando e quindi mi muore pacman invece nel gioco originale il fantasmino che sta dall'altra parte insegue ciecamente direi il pacman non pensando che ci sarò ci sono queste scorciatoie e a volte fa dei giri appunto perché non riesce a distanza con l'idea passa attraverso i muri quindi non capisce che ci sta un muro pertanto fa un giro mentre magari sarebbe convenuto fare una strada diversa ma appunto non non sa che c'è quella strada diversa quindi che possiamo fare beh possiamo chiedere sicuramente alla nostra ai instance chiediamo alla i la classe diversi la unica istanza ovviamente lui non sa la classe i perché non l'ha mai non l'ha mai inclusa e gli chiediamo guarda mi dai il prossimo nodo nella short spot quindi io voglio andare da ecco ragioniamoci voglio andare ho raggiunto un checkpoint quindi proprio questo è un dato di fatto se ho raggiunto un checkpoint io c'ho nodo breve nodo next giusto ho raggiunto nodo next quindi nodo next è il nodo in cui mi trovo se sono il checkpoint richard quindi voglio il cammino più breve dal nodo in cui mi trovo e pacman si muove quindi dove vuoi andare allora pacman si muove tra due nodi tra il suo nodo prev e il suo nodo next secondo voi quale nodo conviene dare qui il cammino minimo tra me fantasmino e il preve di pacman o tra me fantasmino e il next di pacman se vogliamo fare un fantasmino cattivo vogliamo che il fantasmino punti al nodo in cui pacman sta andando è cattivissimo sto fantasmino quindi anticipa praticamente quasi la mossa del pacman quindi dovremmo chiedere dovremmo chiedere a pacman ma ovviamente noi non abbiamo qui pacman fantasmino non so se abbiamo pensato ce l'ha pacman scusate non mi ricordo quando abbiamo fatto questa cosa però ce l'abbiamo ma qualcuno ce lo dà siamo sicuri sì ok ce lo danno nel costruttore è vero che ce lo danno nel costruttore sì ce lo danno nel costruttore benissimo abbiamo pacman vedete abbiamo già pensato tutto abbiamo pacman e dobbiamo chiedergli scusami da auto next mode non credo che pacman abbia un ghetto di tipo next node e allora ghettano mettiamo magari in entity è un intero quindi va benissimo getter getter dove stanno i getter non ci sono vabbè getters int next node return next node next e vabbè ok node next next node quello che è allora diciamo questo è il cammino più breve cioè voglio il prossimo nodo in cui devo andare nel cammino più breve tra il nodo in cui mi trovo è il nodo in cui pacman sta andando questo mi restituisce un intero ma a me serve una direzione e quindi l'approccio banale sarebbe vediamo se c'è qualcosa di più elegante sarebbe andare in ciascuno dei vicini del nodo vedere quale di quelli corrisponde al nodo che è stato selezionato e quella sarà la direzione di movimento ma sì non vedo un modo più elegante non so se vi viene in mente a voi qualcosa di più elegante e questo mi restituisce mi restituisce un nodo non una direzione e dove trasformare in direzione non mi pare di avere scritto qualche parte una metodo di utilità che trasforma il nodo in direzione non penso no non c'è nessun metodo di utilità che fa questo e quindi non mi rimane altro che andare nell'array di quattro vicini nel nodo in cui mi trovo uno ad uno vedere se se per forza dovrebbe essere per forza che uno di questi quattro è il nodo in cui mi trovo e scusa è un nodo tra questi quattro e quello che sarà la direzione di movimento quindi quindi vabbè inter inter sì per forza inter no the next inter next non ai lo chiamiamo così così no e poi facciamo un ciclo un ciclo che però ha bisogno dei vediamo se possiamo riusare a questo chius next di perché scusate fatemi capire un attimo se possiamo perché bisogna anche considerare che non può tornare indietro cioè ci sono delle cose che noi qua abbiamo già fatto del tipo ci sono delle direzioni candidate a queste direzioni candidate se non ci sono direzioni tra l'altro un piccolo cieco quindi anche queste cose dobbiamo considerare mentre il motore di intelligenza artificiale non considera i piccoli ciechi cioè per il motore di intelligenza artificiale tornare indietro non è un problema quindi credo convenga comunque passare da questa funzione perché questa funzione modella anche le regole del gioco non solo il fatto che esiste un percorso e di seguire quel percorso quindi sto pensando che forse ci conviene modificare questa funzione per contemplare anche il fatto che noi il modo già ce l'abbiamo quindi deve soltanto trovare la direzione fatemi capire se si può fare questa cosa allora questa cosa dice innanzitutto va ad escludere le direzioni non fattibili e se non ce ne sono dice direttamente torno indietro perché l'unica cosa da fare senza manco considerare il target e questo mi piace perché giusto il gioco così funziona se invece se ci sono delle direzioni fattibili lui dice che se è random scegli random se non è random minimizza la distanza equidea e a me piacerebbe un terzo caso quindi o è random o deve minimizzare la distanza equidea o deve scegliere proprio il modo la direzione del modo che io gli ho dato quindi effettivamente possiamo pensare ad una cosa del tipo int target node next node una cosa di questo tipo che di default gli do meno uno cioè di default non glielo do meno uno significa non te lo so dare se te lo do però devi fare quello che ti dico quindi int next node no qua non si deve mettere uguale quindi if random random e random e vabbè else if se invece mi hai dato un next node maggiore uguale di zero perché anche zero è un nodo zero i nodi partono da zero quindi è un nodo esistente vero allora devo fare una cosa che adesso devo fare altrimenti altrimenti significa che devi minimizzare la distanza equidea e quindi a questo punto nel nel checkpoint richard mi viene in mente che e dobbiamo semplicemente dire next dir quindi non così next dir uguale choose next dir non scegliere al metodo target non importa quello che gli diamo anche un punto invalido tanto lui non lo considera non è random e questo è il next node che non è più meno uno ma in questo caso gli do appunto gli do appunto il next node calcolato dal motore di intelligenza artificiale e quindi vedete si è anche alleggerito sempre pensiamo responsabilità guardate come si è alleggerito adesso checkpoint rigid praticamente sono due righe che basterebbe dire se la i è strong fai così altrimenti fai così una sorta di tipo if strong ai fai così ecco lì ovviamente questo flag non ce l'abbiamo però se ce l'avessimo sarebbe semplicissimo trasformare questo codice in doppia modalità magari che c'è un pulsante che se lo premiamo attiva la i strong altrimenti è di default attiva la i del vecchio del gioco originale a questo punto ci eh beh dobbiamo qui fare appunto un ciclo su tutte le direzioni e e chiederci se nella direzione che stiamo considerando eccola qua quindi se il nodo se il nodo vicino vicino del nodo in cui mi trovo nella direzione che sto considerando è esattamente uguale al next node allora la direzione scelta è la direzione la direzione la quale abbiamo trovato il nodo eh giusto questo perché si è arrabbiato eh eh qpoint eh sì hai ragione eh eh questi sono dei qpoint i nodi eh eh infatti non ci serve il punto ci serve l'indice eccolo qua questo è l'indice questo è neighbors è l'array di vicini del nodo attuale nella direzione contiene l'indice del vicino se l'indice del vicino è esattamente next node allora questa è la direzione da intraprendere ora però dobbiamo pensare un attimo dobbiamo sempre pensare che quando noi siamo quando è la prima volta che facciamo una cosa dobbiamo mettere in conto che è pieno di bug quello che stiamo facendo quindi non possiamo semplicemente fidarci di questo codice perché che succede che succede se next node è un nodo che non fa parte dei nodi raggiungibili per esempio eh la i vuole che il fantasmino torni indietro ma non può tornare indietro quindi eh questa eh praticamente questa riga non si verificherà mai il nostro choose and dear rimarrà probabilmente unknown e questo non ci piace che rimanga unknown perché unknown significa che probabilmente crusherà il gioco perché tenterà di andare nella direzione unknown unknown è una direzione 4 tenterà di andare nel vicino con indice 4 i vicini hanno indici 0 1 2 3 eh out of bounds classico errore crash out of bounds eh access violation quello che è quindi quindi dobbiamo stare attenti che può succedere che la strada migliore sia quella che torna indietro e se è così questo codice crash quindi dobbiamo contemplare il caso in cui in cui non si possa andare eh eh no sto pensando che possiamo fare non solo ma supponiamo proprio che la nostra i è super baggata e ci dà come next node un nodo che manco è uno dei quattro vicini di nuovo questo sarà non quindi dobbiamo stare attenti che questa cosa venga sono due casi diversi però in un caso la i non è baggata semplicemente è una direzione non non fattibile e nel secondo caso invece la i è baggata e quindi quindi insomma siamo un po' un po' attenti allora che possiamo fare beh possiamo dire semplicemente che se alla fine di questa storia tu hai scelto una direzione non l'hai scelta perché è a non quindi beh sicuramente se se ci usa in dire è rimasto a non c'è un problema questo è sicuro qua c'è un problema il problema è come risolvere in questo caso uno potrebbe dire sarei tentato di dire guarda vai in questo ramo else utilizza la vecchia ai perché fatemi ragionare allora conveniva andare se conviene andare indietro se conviene andare indietro io non glielo permetto diciamo che addirittura ma il cammino minimo per forza quello non posso io costringere il cammino minimo dicendo guarda tu intelligenza artificiale dei cammini minimi io non posso andare in tutte le direzioni per favore lo puoi considerare questa cosa non si può considerare il cammino minimo quello è quindi se tu non puoi percorrere quel cammino minimo perché perché non puoi tornare indietro allora come potremmo fare però scusate no 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 forse sto dicendo sto dicendo una cavolata allora lui non può tornare indietro no è vero lui non può tornare indietro vabbè qual è il problema facciamo tornare indietro se l'intelligenza artificiale è se l'intelligenza artificiale dice di tornare indietro siccome è una modalità intelligente che torni indietro perché dobbiamo impedire che torni indietro per carità quindi effettivamente questa cosa qui non va affatto non va affatto su candida e next deal ma su tutte le le direzioni anche quella inversa quindi fatemi ragionare if i diverso da inverse scordir qua la stai escludendo ok and neighbors not there non next secondo me dobbiamo considerare tutte le direzioni quindi considera tutte le direzioni escludi ovviamente quelle in cui proprio non puoi andare per carità se non ci puoi andare dovrebbe essere l'intelligenza artificiale dirlo questo è il discorso ragazzi quindi viene da dire una cosa di questo tipo io le considero tutte e chiedo se una di queste è in modo se l'intelligenza artificiale ha funzionato bene per forza di cose una di queste deve essere il nome altrimenti l'intelligenza artificiale non sta funzionando affatto quindi se questo chosen dir è ancora unknown e qua c'è un bug grosso come una casa printf bug bug c'è un bug ok ovviamente noi non vogliamo questa cosa qui quindi questa cosa noi non dovremmo vederla mai se la vediamo significa che la nostra intelligenza artificiale non sta funzionando e in effetti in questo momento se dovessimo eseguire il codice avremmo esattamente i bug perché la nostra intelligenza artificiale in questo momento non è implementato questo metodo ok quindi abbiamo messo in piedi tutto quello che usa l'intelligenza artificiale quindi il fantasmino invocherà dove invoca in checkpoint richard invoca choose next dir passandogli il nodo che l'intelligenza artificiale seleziona e poi choose next dir andrà a selezionare la direzione corrispondente al vicino che corrisponde al nodo selezionato dall'intelligenza artificiale next node chiamavolo questo se no non si capisce next node next node a questo punto dobbiamo fare l'intelligenza artificiale e dobbiamo ragionare su quello che ci serve mantenere come variabili membro per calcolare i cammini minimi abbiamo discusso prima l'unica cosa che serve non serve la matrice di distanza o meglio si serve se non abbiamo la matrice invece dei successori quindi se abbiamo e abbiamo perché abbiamo detto che in Floyd Watcher si può calcolare possiamo calcolare la matrice dei successori che dobbiamo per forza deve essere per forza una matrice con allocazione dinamica cioè noi non possiamo dire matrice successori n per n non sappiamo n quant'è dipende dal livello quindi davvero non lo sappiamo quindi per forza deve essere una matrice di un array bidimensionale allocato dinamicamente e vabbè sì allocato dinamicamente dove lo allochiamo in un metodo di inizializzazione deve essere un metodo che anzi probabilmente magari direttamente dentro il nostro costruttore anzi proprio dentro il nostro costruttore forse noi possiamo addirittura fare tutto quello che ci serve calcolare non solo allocare la matrice dei successori ma proprio calcolarla perché possiamo chiedere a livello se stiamo attenti cosa sto dicendo ragazzi sto dicendo che noi qua dentro possiamo fare praticamente floyd washall perché perché possiamo chiedere a livello tutto quello che ci serve level.h non so perché non me la ecco e cosa ci serve di level.h beh quello che serve più o meno sempre i nodi e i neighbors dove stiamo ecco qua quindi innanzitutto ci mettiamo da parte il grafo con il grafo lo chiediamo a livello l'unica cosa stiamo attenti siccome abbiamo un metodo instance che invocherà l'istanza che a sua volta chiederà il livello delle cose ovvero chiederà l'istanza del livello delle cose se nel livello se nel costruttore del livello appare appare la la i c'è un problema ovviamente questo non è non è il caso lo è perché appare solo in ghost cioè dobbiamo stare attenti ragazzi che siccome il costruttore di ai ipotizza che il livello già sia stato costruito non possiamo durante la costruzione del livello invocare l'instance di ai altrimenti avremo un ciclo vizioso in cui lui ha bisogno di livello livello ha bisogno di ai e poi c'è un crash al runtime questo non va bene ma mi pare che vada bene perché stiamo un attimo attenti il livello direttamente non invoca i però stiamo attenti perché il livello il livello a un certo punto crea i fantasmini creare i fantasmini comunque non significa niente perché nel costruttore dei fantasmini non c'è l'intelligenza artificiale l'intelligenza artificiale viene invocata solamente nel checkpoint richard il checkpoint richard viene invocato in entity da advance advance viene invocato solo quando il gioco parte quindi ok però guardate quanta catena di ragionamento abbiamo potuto fare cioè per essere sicuri che ai nel suo costruttore possa fare abbia il tempo di fare tutto quello che deve fare dobbiamo essere sicuri che il gioco sia fermo quando parte l'applicazione ecco perché spesso quando partono i giochi partono da fermi perché ci sono delle cose che bisogna fare prima che il gioco parte e questo è il nostro caso quindi e vabbè siamo pronti a fare tutto e per floodwarshal serve la matrice delle distanze quindi di nuovo matrice delle distanze new int ecco quanti sono i nodi int n i nodi sono neighbors appunto non neighbors scusate nodes della stessa cosa appunto sites questo è il numero di nodi quindi new int star n questa è la locazione della matrice delle distanze for int i uguale 0 i minore di n più più di di i uguale new int di n quindi abbiamo allocato le righe e ora stiamo allocando le colonne però dovremmo inizializzare quindi non basta questo ma dobbiamo anche dire or int j uguale 0 j minore di n j più più quant'è la distanza tra i e j cosa vuole for the workshop beh chiamiamoli xy dai chiamiamoli xy così siamo più fedeli alle slide però 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 qual è la distanza tra x e y la distanza tra x e y è pari al peso dell'arco se c'è a 0 se è lo stesso nodo e a più infinito negli altri casi però dobbiamo chiederci se c'è un arco questa è la la prima cosa da fare quindi quindi beh non possiamo certo scriverlo così d'amblè dobbiamo un attimo fare un ragionamento allora la matrice distanza la stiamo allocando ci serve e alla fine la dialogheremo pure faremo facciamo allocazione e diallocazione allocazione si fa così si diallocano prima le colonne delete d d i e poi si dialloca d d scusate e poi si dialloca delete d d quindi questa è diallocations non vogliamo sprecare memoria anche se questa questa è una matrice 100% 10.000 e 10.000 byte per 4 40.000 byte interi 40.000 byte sono 40 kilobyte sprechiamo 40 kilobyte una tantum e poi manco se ne accorgiamo però didatticamente dobbiamo ricordarci di allocare in realtà ci serve anche poi la matrice dei successori che vabbè poi ce ne occupiamo dopo intanto inizializziamo la nostra matrice delle distanze allora se c'è un arco è il peso di quell'arco se c'è un arco e se c'è un arco e come facciamo se c'è un arco pensiamoci perché abbiamo abbiamo gli indici dei vertici non abbiamo allora intanto quali sono i vicini di x i vicini di x sono quelli che stanno nel ciclo int come so vicino neighbor neighbor anzi lo facciamo così non serve fare più più uno auto neighbor in neighbors di x quindi questi sono i quattro vicini sto usando un ciclo generalizzato ma potevo scrivere for neighbor int neighbor uguale i sono quattro questo ciclo automaticamente capisce che sono quattro quindi per ciascuno vicino io mi devo chiedere se se è uguale a y perché se è uguale a y allora quello è in questo momento di dire la distanza tra x e y se è uguale a y la distanza è pari all'arco che li connette e beh l'arco che li connette è la distanza orizzontale o verticale e forse forse c'è questa cosa già perfetto c'è già questa c'è la funzione di utilità che dati due punti che si suppone giacere sulla stessa retta orizzontale o verticale e vi calcola la distanza orizzontale o verticale dei punti i punti quindi sono stanno in nodes per fortuna ce li abbiamo quindi nodes di x nodes di y quindi questa è la distanza tra i punti e diciamo che è la distanza appunto è un arco perché abbiamo trovato che y è un vicino di x e quindi la distanza è uguale a questa però se non è un arco se non sono vicini la distanza dovrebbe essere più infinito quindi dobbiamo non possiamo fare un ramo else perché se no poi questa cosa si resetta dobbiamo inizializzare probabilmente a distanza quindi la distanza va inizializzata con più infinito e qua chiedo a voi che ci metto anzi voglio fare una cosa voglio fare una provocazione questi sono interi quindi sarei tentato di dire numeric limits int max sarei tentato di dire l'infinito degli interi è il max il massimo numero più grande numero rappresentabile con gli interi e questo sarebbe il nostro più infinito ma secondo voi da un punto di vista teorico è giusto dire più infinito la teoria è questa ma nella pratica è giusto dire che l'intero più infinito lo inizializziamo la D con il numero più grande rappresentabile con gli interi qualcuno di voi vede un possibile problema a questa decisione che abbiamo preso che ho preso che uno sarebbe tentato di dire questo è match a 1-1 con la teoria quindi perché non dovrebbe funzionare non funziona perché chi mi sa dire perché l'indizio sta qua ingrandisco perché non funziona perché forse poi non resettiamo più il distanza più infinito quindi andrà a sommare ogni volta più infinito e rimarrà sempre infinito peggio comunque si ha centrato il problema ma è ancora peggio di quello che ha detto se qua se questo siete d'accordo che questa distanza potrebbe essere in un certo momento più infinito certo all'inizio sono tutti più infinito quasi tutte pertanto se questa fosse più infinito ma più infinito per noi che cos'è è il numero più grande rappresentabile con gli interi se a questo numero noi sommiamo una qualunque altra quantità che succede nel linguaggio nel calcolatore è un concetto questo di 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 rappresentazione delle variabili ragazzi succede che il numero più grande rappresentabile anzi facciamolo voglio farlo speriamo che mi compila tutto sto voglio farlo perché è importante questo è un errore che capita spessissimo in tante tante cose nella vita quindi voglio veramente farvelo vedere non accade solo in cpp dove sta il main spero che compili bid, fade e te pozino perché cosa ho fatto di sbagliare eh vabbè certo non ho definito la funzione eh vabbè la definiamo più avanti qua 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 retardo zero come so adesso nel main ci metto prima di tutto questo infatti ci metto un retardo uno ci metto print printf numeric limits limit max ci metto questo uguale e poi ci metto più uno che cosa accadrà è un po' quello che accade nel fraud workshop se io sommo qualcosa più infinito eccolo là questo è il numero più grande rappresentabile ma appunto il numero più grande rappresentabile quindi se voi sommate uno va in buffer overflow cioè fa l'overflow cioè non riesce a rappresentare quel numero così grande pertanto si ritorna al numero più piccolo rappresentabile stavolta con quegli interi ragazzi ragazzi questo è all'origine forse ve l'avrò detto a lezione di un razzo che è caduto 40 miliardi miliardi non milioni di dollari di perdita a causa di un overflow cioè una variabile aveva un valore troppo grande quando diventa troppo grande più di quello che può memorizzare i bit vengono settati in un modo che vengono interpretati come un segno negativo quindi è un disastro quindi tutto questo per dirvi che noi non assolutamente non settiamo il numero più grande rappresentabile ma gli settiamo un numero grande molto grande ma non così grande un numero che è più grande di tutti i numeri che possiamo pensare nel nostro grafo ora siamo in pacman ma quanto possono essere queste distanze è un livello che sono più o meno 200 pixel per 300 centinaia di pixel quindi se noi ci mettiamo che ne so 100.000 questo è come se fosse più infinito ok quindi vedete abbiamo posto attenzione a metterci un numero che per noi rappresenta il più infinito ma non è il più infinito teorico perché il più infinito teorico noi non ce lo possiamo permettere a livello proprio di rappresentazione numerica quindi ricordiamoci sempre che ci dobbiamo scontrare con un calcolatore ok quindi abbiamo inizializzato le distanze sono di default più infinito ma se esiste un arco allora la distanza diventa quella euclidea orizzontale o verticale in più possiamo anche dire che se 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 x è uguale uguale a y la distanza è zero attenzione quindi se x è uguale uguale a y la distanza xx e xy sono uguali sono uguali è zero altrimenti inserizzata con più infinito e poi altrimenti proprio tutto cioè altrimenti questo praticamente ora sì quindi se il nodo x è uguale al nodo y perché stiamo facendo un ciclo su tutti i nodi quindi può essere che x e y sono la stessa cosa allora la distanza è zero altrimenti la inserizziamo con più infinito e andiamo a controllare se c'è un arco se c'è allora a posto di più infinito verrà messa la distanza la distanza che c'è tra quei tra quei nodi dell'arco è un arco quindi è appunto il peso dell'arco e abbiamo fatto questa parte qui adesso non ci rimane che fare questa parte qui ma questa parte qui è banale perché è for int k uguale da zero o da uno a n ragioniamoci un attimo beh no è da zero perché noi partiamo i nostri nodi hanno indici che vanno da zero a n-1 quindi k che va da zero a n non incluso k più per ciascuna coppia di vertici quindi for int diciamo i stessi lettere x y quindi for int x uguale a zero x minore di n x più più for int y uguale a zero y minore di n x più più apriamo parentesi graffe e diciamo se ho fatto qualcosa di sbagliato se la distanza che c'è tra x vk vk y si abbiamo la matrice quindi non è un problema quindi if quindi praticamente c'è un altro c'è una if prima di questo if di x vk quindi sarebbe k più di k y e abbiamo scoperto una strada che passa per k ed è il migliore della strada fino adesso nota che va da x a y allora dobbiamo aggiornare la nostra distanza con la nuova distanza trovata e in più ricordarci che il successore adesso il successore che va da x a y cioè il prossimo nodo nel cammino minimo nel cammino che va da x a y siccome abbiamo trovato una strada migliore che passa per k sarà il successore che ovviamente partendo da un stesso nodo perché noi in questo momento stiamo in questo nodo va verso k perché tanto sappiamo che questo fa parte di un cammino migliore rispetto al cammino fino adesso noto che va da x a y o non vado indietro perché ho fatto qualcosa che non so cosa ho fatto benissimo e ok e mh dovrebbe dovrebbe andare così non c'è nient'altro devo allocare la matrice dei successori ovviamente vanno inizializzati i successori e beh non mi sa di sì perché ovviamente questo va ad assegnare dei successori e i successori vanno assolutamente inizializzati quindi intanto ho allocato la matrice delle distanze mi sto chiedendo se posso fare una cosa simile a quella che abbiamo fatto per le distanze allora i successori come vanno inizializzati eh no c'è da pensare perché non è detto che i successori uno sarebbe tentato di inizializzare i successori con praticamente i successori che vanno da beh il successore tra un nodo e lo stesso nodo è ovviamente esso stesso e nel cammino al minimo tra un nodo e se stesso il prossimo nodo è se stesso basta questo e tutti gli altri che devono essere tutti gli altri vediamo un po' il successore che va per esempio facciamo un esempio per esempio un grafo il successore che va il successore tra x e y se c'è un arco uno sarebbe tentato di dire è esso stesso beh il successore tra x e y se c'è un arco è y non è detto perché per esempio questo è un nodo migliore quindi il successore da x e y non è detto che se y non potrebbe essere in questo caso questo nodo e come faccio a scoprirlo cioè lo scopro durante la protezione di Freud qui non posso ragionare con se c'è un arco il successore non inizializzo a quell'arco non è così anche se effettivamente poi i successori vengono comunque vengono vengono aggiornati durante durante l'algoritmo cose ah c'è un chiedo aiuto a wikipedia però ci ragioniamo i successori ah no ragionano sugli archi quindi se ovviamente il nodo è se stesso e il successore è se stesso mentre il successore in un arco v è il nodo v quindi è quello che avevo appena detto però effettivamente va bene perché in tutti gli altri casi però eh in tutti gli altri casi ah null addirittura l'inizialità è null non più infinito null significa che non c'è un successore non c'è un successore sì effettivamente non li conosco i successori tutti all'inizio conosco solamente i successori temporanei lungo gli archi e i successori verso se stesso e tutti gli altri sono effettivamente nulli quindi la nostra matrice di successori che possiamo praticamente giocarci siccome c'è un discorso sugli archi praticamente insieme alle distanze successore però successore è un è un membro quindi è un membro non devo dichiararlo di nuovo new int di n va bene successore di x new int di n va bene anche così if x è uguale a y anche qui diciamo caso particolare successore di x y è uguale a y x sono la stessa cosa il nodo stesso altrimenti inizializziamo con un valore nullo che per noi è meno 1 per esempio perché è un indice invalido non possiamo dire null non possiamo scrivere null non possiamo perché questa è una matrice di interi quindi diciamo meno 1 che significa che non c'è un successore se invece abbiamo trovato un arco allora diciamo che successore è proprio y successore di x è proprio y e questo dovrebbe essere l'aggiornamento dei successori poi abbiamo file workshop che l'abbiamo già fatto abbiamo le varie diallocazioni che a questo punto possiamo includere anche anche i successori no no che successori scusate i successori devono rimanere in vita per tutta la durata del programma e a questo punto siamo pronti per fare il short spot e vedere nei 5 8 minuti se questo funziona secondo me non funziona perché è impossibile che a primo botta non ci sono bug e tutto va bene però intanto ci proviamo e vediamo next node in short spot a questo punto il prossimo nodo è return successor di x y banalmente cioè qual è il prossimo nodo nel cammino minimo da x e y te lo dice la matrice dei successori a quello serve il prossimo nodo è il nodo che sta nella matrice dei successori tra x e y non è idea di questo che cosa succederà anche perché se restituisce meno uno che succede qui se restituisce meno uno restituisce meno uno non ci dovrebbe essere meno uno cioè i cammini minimi ci sono sempre questo è un grafo connesso non dovrebbe mai esserci meno uno quindi tra le altre cose se c'è un meno uno non va bene anzi bug 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 e ci scrivo pure next node ai uguale ci scrivo pure il nodo vediamo se restituisce del meno uno se non vediamo mai bug significa che miracoli miracoli primo tentativo non abbiamo mai eseguito il codice proprio mai tutto quello che abbiamo scritto mai eseguito proviamoci allora pronti partenza via io non vedo non vedo in questo momento dei bug e mi sa che porca miseria sta funzionando che dite sembra di sì allora i pacman ha un vantaggio di velocità quindi è chiaro che alla lunga lo 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 semina però mi piacerebbe sapere se questo qua adesso vediamo se lui fa il giro come un cretino avete visto che ha cambiato direzione avete visto che ha cambiato direzione quindi ha capito che il percorso più breve non era quello venendomi dietro ma cambiando direzione questo è indice di un minimo di intelligenza gli epozzino quindi ragazzi incredibilmente sta funzionando sta funzionando anche secondo me un bug c'è ve lo spiego subito qual è ah no capito come ha fatto è un bug però no e no non doveva fare questo vedete che è successo io sono andato nel teletrasporto giusto e lui mi stava appiccicato quindi perché mai dovrebbe cambiare indietro tornare indietro è tornato indietro probabilmente perché noi quando abbiamo detto qui nel dove l'abbiamo detto nell'Ai quando gli abbiamo detto che questa è la distanza Euclidea quando ci sono due nodi di teletrasporto gli abbiamo detto che la distanza è proprio la distanza tra quei due nodi mentre in quel caso non è vero c'è un teletrasporto quindi qua va considerato il caso di teletrasporto e vabbè questo però si risolve facilmente facendo una If di tipo se il nodo è di tipo teletrasporto fai quello che devi fare e vabbè si risolve adesso abbiamo un po' finito il tempo e vabbè quindi la dimostrazione era è vero o non è vero che io sono in grado sono in grado di vincere il livello beh forse sì forse no innanzitutto c'è un solo mamma mia ho perso ragazzi mi sembra sicuramente molto più difficile del gioco del gioco con intelligenza artificiale tradizionale faccio un'altra prova poi ovviamente invito anche voi se vi va di fare queste prove c'è soltanto uno immaginate che ce ne siano quattro mamma mia ok vabbè chiaramente le powerball sono molto utili perché mi consentono di rifiatare un po' tuttavia tuttavia sì non sto giocando proprio benissimo ragazzi vi assicuro che è molto mette molto avete visto che ha fatto io ero qui no e lui era qui la distanza con l'idea gli avrebbe imposto di fare questo percorso invece lui ha capito che mentre io andavo a destra gli conviene anziché fare questo giro acchiapparmi dall'altra parte in effetti è quello che è deciso di fare quindi effettivamente sì è davvero molto più intelligente rispetto a prima e quindi questo si può dire che è un impossible pacman ci accontentiamo di questo è un ottimo risultato e guardate che bello otteniamo il percorso più breve in OD1 quindi super veloce meglio di così non si può fare ci sono delle domande ragazzi? non mi aspettavo di terminare oggi l'implementazione sinceramente tanto termino la presentazione